buona pasqua in queste tragiche ore per l'umanità ancora una volta il risorto entra nelle nostre case e ci dice pace a voi ancora una volta l'uomo della croce con il suo morire abbracciando il nemico diventa per noi una prospettiva di speranza ancora una volta abbiamo la possibilità di rilanciare la vita ripartendo dall'accoglienza dal perdono dall'inclusione a tutti voi trentini e trentine arrivi la forza della pasqua che ci invita a continuare a credere nell'amore nonostante tutto non c'è alternativa ad amare buona pasqua